Fino a un paio d'anni fa i 5.000 non li riuscivo a reggere, reggere più che altro mentalmente, 12 giri e mezzo, con l'aiuto e supporto di sicuramente mio papà e anche tutti gli allenamenti fatti, gli allenamenti anche lunghi, i medi, davvero molto lunghi, sono riuscita a sostenere il carico dei 5 chilometri in gara. 5 chilometri sono fin troppo lunghi, stasera parliamo di 10k, cosa pensi di 10k? Tu sai, abbiamo parlato qualche mese fa, ti dicevo prima o poi la maratona, la mezza maratona, parliamo di 10k, limitiamoci qui, secondo te è una gara che potrai fare, potrai provare? Sì, questo sicuro, diciamo che adesso mi spaventano le gare brevi. Sì, 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 sì. Credo che il problema di gare così lunghe attualmente non sia tanto lo sforzo fisico o comunque eventuali dolori muscolari, ma credo sia proprio reggerli mentalmente, basta pensare ad esempio i 10k in pista sono 25 giri, sono davvero 25 giri, forse ovviamente in strada, anzi sicuramente in strada mentalmente pesano sicuramente meno. Assolutamente. Infatti una domanda che volevo farti è cosa pensi tu, soprattutto nell'ultimo giro, qual è la cosa che ti porta al traguardo? Allora, nei primi chilometri sicuramente penso a trovare la scia giusta, quindi evitare possibili cadute e quindi alla fine penso mi concentro molto sulla gara. Gli ultimi giri è un non pensare ma correre il più forte possibile. Assolutamente. Ti chiedo un'anticipazione sul futuro. La tua stagione, lo dicevamo all'inizio, è terminata, adesso ti stai riposando. Ripartirai perché papà è qui che ti segue per farti ricominciare. il più in fretta possibile.